luca terzani e marco terrone presentano la pecora nera quello che gli altri non dicono amici e amiche della pecora nera bentornati a questa nuova puntata oggi è trovato a trovarci un ospite che per noi è molto caro e avremo un argomento che esona un po dagli ultimi che abbiamo trattato ma è molto interessante ma esso ci arriviamo intanto lasciatemi salutare l'altra parte di prossimica marco ciao marco luca buongiorno a te buongiorno ai nostri amici in collegamento sì oggi per noi è una puntata emozionante perché abbiamo nuovamente con noi e lo salutiamo e lo ringraziamo il professor pietro ratto bentrovato professore salve a tutti grazie è un piacere per me insomma ho sempre creduto in questo canale e in voi due quindi per me è un piacere essere qui grazie professore oggi parleremo del suo ultimo libro 11 settembre abbiamo lasciato un po decantare l'avvenimento 2021 però ecco il suo libro ci dà un ottimo gancio per parlarne pietro ratto 11 9 da berlino a kabul la lunga scia di sangue dell'11 settembre e parto proprio da una sua riflessione per dare il via a questa nostra chiacchierata quanto alle vicende messe in luce in questo lavoro alle trame evidenziate alle responsabilità denunciate ancora una volta mi trovo a scoprir che si tratti null'altro che dell'ennesima tessera di un gigantesco puzzle che ho iniziato a comporre ormai sette anni fa questo è un suo pensiero se non sbaglio e iniziamo da qui la nostra chiacchierata professore sì sì confermo alla fine io non parto mai volendo dimostrare qualcosa ma parto alla ricerca senza pregiudizi o senza diciamo precondizioni e quindi senza volermi imporre necessariamente una una direzione qualsiasi pur sapendo di cosa voglio parlare e di che cosa sto parlando ma in questo caso ma anche in altri poi alla fine ti rendi conto che si tratta sempre di una questione di lobbying cioè che si tratta sempre comunque di una questione di interessi privati diciamo mascherati da missioni umanitarie o da questioni ideologiche gestiti da multinazionali che fanno pressioni sulle 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 attività legislative locali e internazionali e quindi globali al fine di ottenere appunto ciò che che vogliono e che siano guerre che siano attentati che siano rivoluzioni insomma recentemente parlavo con qualcuno nella mia chat che sosteneva che le piazze servono e abbiano cambiato le cose e qualcun altro gli chiedeva queste manifestazioni hai delle prove che abbiano cambiato qualcosa ecco le ultime prove che venivano adotte riferendosi a un articolo in rete sono tutte rivoluzioni come quelle colorate nei paesi arabi o africani eccetera che in realtà sono state gestite dalla cia quindi anche le rivoluzioni servono per ottenere per far sì che i soliti potenti ottengano quello che vogliono ecco perché da qui insomma un po la mia diffidenza nei confronti della manifestazione di piazza perché quando è spontanea viene o ignorata oppure sistematicamente trasformata attraverso infiltrazioni varie in un fenomeno assolutamente da denigrare e da stigmatizzare come violento quando invece non è spontanea e quindi funziona beh appunto si tratta di qualcosa di organizzato e creato apposta nel caso di questo libro quell'11.9 tra l'altro non fa parte del titolo è una specie di accorgimento grafico perché il mio editore ci teneva parecchio ma il titolo parte da Berlino a Kabul se non ci sarebbe la ripetizione di 11 settembre all'interno del titolo e in relazione a questo libro in effetti la questione è quella di rendersi conto poco per volta come tutta la questione a partire dal dagli attentati dell'11 settembre poi soprattutto dalla dall'intervento statunitense e delle e delle forze alleate in Afghanistan dal 7 di ottobre sempre del 2001 parta da una riunione segreta verificatasi a metà luglio a Berlino una riunione nel corso della quale i talebani che non sono presenti ma sono informati di quello che dettagliatamente viene detto nel corso appunto di questo meeting i talebani debbano sottostare a delle condizioni che gli americani impongono condizioni che sono essenzialmente collegate a interessi economici petroliferi del appunto dell'occidente e soprattutto degli stati uniti in relazione a un progetto che si chiama cent gas di realizzazione di un oleodotto e di un gasdotto dal Turkmenistan fino al Pakistan passando appunto nel territorio afgano un progetto che è gestito da una cordata di multinazionali petrolifere al vertice della quale c'è uno cal una c'era uno cal una multinazionale californiana del petrolio che guidava appunto la cordata e quindi gli interessi ma non solo americani perché c'erano in gioco interessi giapponesi interessi medio orientali gli emirati arabi e dell'arabia saudita compagnie di queste di queste di queste nazioni tutti interessati a quello che era un progetto che doveva assolutamente realizzarsi perché si parla di miliardi e miliardi di profitti un progetto che se i talebani avessero ostacolato avrebbe comportato come viene detto alla fine di questa riunione un'invasione del territorio afgano entro l'epoca delle grandi nevicate che in in afghanistan si verifica a metà ottobre quindi discorso è detto a metà luglio o voi fate quello che vogliamo oppure signori entro la metà di ottobre noi vi invadiamo guarda caso l'undici settembre scoppia il casus belli che permette alla all'america di avere tutte le carte in regola per a livello umanitario andare a esportare democrazia in afghanistan e nello stesso momento fare giustizia sgominando il terrorismo in una guerra che viene dichiaratamente definita infinita in modo da poter avere tutto il tempo a disposizione e poi appunto il 7 di ottobre perfettamente in tempo prima dell'inizio delle grandi nevicate avviene l'attacco statunitense e comunque della nato all'afghanistan professore per cercare di capire un secondo meglio come funzionano le dinamiche americane lei ha parlato anche nel suo libro lobbying le lobby esistono in america così come esistono in in europa ma sono regolamentate in america in una maniera molto particolare cioè mentre in europa non dovrebbero esistere invece in america sono assolutamente contingentate e regolamentate e c'è anche un po' questo concetto politico della porta girevole per cui diciamo i politici attualmente al governo sono gli stessi che poi fanno parte anche delle lobby ce lo spiega un secondo meglio allora in america dal dalla dall'epoca di di barack obama in america si è creato un stato creato per legge un registro pubblico nel quale devi iscriverti se fai attività di lobbying molto interessante questo perché dovrebbe essere un qualcosa di illegale ma in realtà invece si viene regolarmente iscritti e è un registro in cui ti devi iscrivere obbligatoriamente e è finalizzato dal 2008 a questo tipo di idea chi è iscritto in questo registro non può esercitare anche un'attività politica diciamo così o comunque entrare in un esecutivo in una amministrazione pubblica deve dove deve aver interrotto la sua attività di lobbying da almeno due anni per poter entrare nella politica e quando esce dalla politica proprio riferendomi a questo meccanismo della porta girevole per due anni non può rientrare in una attività privata in cui eserciterà di nuovo il fenomeno appunto pressioni sulla politica appunto di tipo lobbistico in realtà a questo punto il gioco è fatto perché nel momento in cui obama ha deciso questa legge i grandi lobbisti soprattutto i principali dopo essersi iscritti si sono subito cancellati perché se è obbligatorio iscriversi è assolutamente come si può dire facoltativo rimanere iscritti o no quindi si sono cancellati e hanno aspettato il tempo giusto e sono entrati nell'amministrazione nella sua stessa amministrazione oppure come in certi casi due fratelli uno resta dentro e l'altro nel registro e l'altro invece non si iscrive continua a fare attività politica in questo modo ufficialmente sono due persone separate nel libro cito nomi e cognomi di casi di questo tipo in europa la situazione è ancora più ridicola perché è stato effettivamente e in seguito per volontà del movimento 5 stelle come si può dire realizzato un elenco di attivi di attività o persone che esercitano questo questo tipo di attività ma in realtà è facoltativo iscriversi quindi non farlo non iscriversi e la stessa cosa avviene sia a livello europa sia a livello italia adesso non so se prima ho detto europa italia nel caso in italia e si è realizzato per volontà del movimento 5 stelle a livello europeo si è realizzato in seguito a quello americano prendendo quindi spunto dal dall'albo dei lobbisti americani però in realtà è tutto facoltativo è tutto anche molto confuso incomprensibile soprattutto quello italiano il risultato è che non ci si iscrive praticamente e si continua a fare tutto quello che si vuole anche perché evidente che alla luce del sole questo fenomeno non possa essere troppo gestito visto che si tratta di far valere interessi privati che incidono sulla comunità e che quindi insistono soprattutto su questa grave situazione che è quella che io descrivo alla fine di lobbying che denuncio alla fine di lobbying e cioè la situazione per cui anche a livello educativo la scuola non insegna più la differenza tra pubblico e privato la scuola stessa in mano al privato con le sue lobby quindi è una scuola che mentre insegna fa pubblicità a mcdonald o a s lunga gli stessi punti scuola buoni scuola servono proprio per fare entrare finanziamenti privati nelle scuole pubbliche i ragazzi non riescono più a capire la differenza tra pubblico e privato e questo facilita ancora di più l'attività di lobbying che consiste proprio si basa proprio su questo su questo a questa mescolanza su questa promiscuità di interessi pubblici e interessi privati sempre a vantaggio dei secondi professore per tornare nell'alveo dell'11 settembre lo ha nominato lei prima il caso sbelli la storia ci ha insegnato che ogni guerra è preceduta appunto da un da un fatto che ha legittimato un intervento militare l'11 settembre l'abbattimento delle torri lei lo vede come un attentato islamico andato ben oltre le più rose aspettative o potremmo pensare anche che l'america non dico che abbia provveduto da sé ma che abbia diciamo colto la palla al balzo dal momento che pare che su nella stanza ovale sul tavolo del presidente l'ordine di attacco in afghanistan fosse datato 10 settembre dunque io credo allora intanto direi che come ben sappiamo dubbi confutazioni diciamo evidenze rispetto a contraddizioni all'interno della narrazione ufficiale su quell'evento sono state super pubblicate denunciate lo stesso amico massimo mazzucco ha lavorato molto su questo punto su gli aerei che non si trovano più dopo lo scontro su questi piloti che non erano così in grado di fare quello che ufficialmente hanno fatto quindi sull'eventualità che si sia trattato di droni per esempio e poi rispetto al mio libro non si può non citare quelli che sono i proficui accordi e contatti tra famiglia bush e la famiglia bin laden per esempio che bin laden che hanno addirittura come spiego nel in questo libro hanno addirittura costruito due o tre basi militari statunitense voglio dire non è che stiamo parlando di aver costruito un supermercato e e quindi tutto ciò sicuramente qualche dubbio sulla versione ufficiale lo fa lo fa insorgere nella testa e sicuramente ci sono io vedo due possibilità due alternative o questo attentato è un attentato terroristico ma alla luce di quello che racconto in quella riunione relativamente a quella riunione di luglio tra americani e pakistani e rappresentanze di del governo russo e servizi segreti pakistani come si può dire incaricati di informare in maniera molto fedele i talebani di quello che sta avvenendo ecco la luce di questa riunione o l'attentato dell'11 settembre è di matrice islamica ma nel senso che bin laden e compagni avendo recepito questo ricatto statunitense avvenuto durante questa riunione ha pensato bene di vendicarsi di questo ricatto rispondendo in questo modo oppure secondo me in maniera più probabile questo è un attentato appositamente realizzato per poter poi avere la motivazione e la diciamo la legittimazione a livello globale di 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 entrare in afghanistan e come spiego nel mio libro è molto interessante come le basi militari che via via gli stati uniti collocavano sul territorio afgano durante questa ventennale guerra venissero venissero edificate esattamente sul percorso che avrebbe dovuto fare l'oleodotto quindi in realtà gli americani stavano prendendo possesso esattamente dei punti direttamente dei punti che interessavano a uno cal e a multinazionali gigantesche come carlile di cui ricordo erano soci o o comunque diciamo associati sia i bush sia i bin laden oppure come enron che il cui il cui la cui il cui crollo non può essere spiegato un crollo immediato immediato improvviso inaspettato non può essere spiegato se non alla luce della questione di cui parlo e quindi dell'11 settembre degli interessi in gioco su quel relativamente a quello leodotto e a quel gasdotto quindi in entrambe i casi in entrambe le alternative di cui lei parla non si può più secondo me non contemplare l'ingrediente della riunione di luglio ingrediente che emerge dal racconto di un vecchio diplomatico presente a quella riunione pakistano a pochi giorni dopo l'attentato dell'11 settembre sul in un'intervista alla bbc questa versione questo racconto viene ripreso qualche giorno dopo dal guardian poi sparisce nessuno ne parla più e di questa riunione si perdono le tracce fino praticamente ai lavori di chi ha cercato di tirare fuori la questione compreso il sottoscritto qualcuno aveva già timidamente tirato fuori questa questione ma si parla di casi davvero uno o due in tutto a livello mondiale ma ma in realtà nel mio caso si va proprio approfondire per esempio a seguire quelle che sono poi le sorti di chi ha partecipato di che fine fa dopo aver partecipato a questa riunione avere quindi come si può dire conservato nella propria memoria il ricordo di questi di questi fatti di questi e di questi patti no un ricordo che particolarmente ingombrante che se dovesse essere esternato come di fatto accade come dicevo durante nel corso di quella intervista alla bbc porterebbe a uno scandalo terrificante quindi nel mio caso sono andato proprio a fondo collegando tutta una serie di cose che si verificano in quei mesi a partire dal forum di davos dal g8 a genova che sono tutti eventi che possono essere sicuramente diciamo compresi molto meglio in maniera molto più approfondita in tutta quella fase in tutto quel periodo alla luce di questa riunione di cui non si è mai parlato io direi che come si dice spesso seguendo il denaro si si scopre anche la verità diciamo che c'è una linea che unisce il discorso del oliodotto il gasdotto con la rabbia saudita si parla anche di fondi che siano arrivati in america bloccati a new york che poi ritornano in europa che cosa ci può dire su questo ma no senza dubbio in questo tipo di affare erano interessati tutti tutti soprattutto a livello del mondo occidentale si tratta di si trattava in realtà di mettere a punto un caposaldo fondamentale della dottrina clinton che tra le varie cose prevedeva appunto che i gasdotti diciamo così che le risorse energetiche fossili delle zone intorno al mar caspio dovessero essere riprese in mano dagli stati uniti dopo il crollo dell'unione sovietica e quindi si dovesse riprendere in mano il monopolio di queste risorse che fino a quel momento era nelle mani dei grandi colossi sovietici e poi russi come ad esempio casprom quindi discorso era quello di sottrarre questo questa esclusiva e questo monopolio questo potere così grande e per farlo bisognava venire a patti con le i governi locali degli dei territori altamente strategici che si trovavano in quelle zone e lungo quello che idealmente poteva essere l'itinerario che sarebbe stato individuato per portare il il greggio di quelle zone all'europa e comunque all'occidente ecco quindi che l'afghanistan diventa il lo snodo centrale come ho già detto altre volte lo ricordo l'afghanistan faceva parte di un territorio smisurato che già all'epoca di alessandro magno era considerato di importanza strategica fondamentale perché era l'accesso al mare insieme al prolungamento di dell'afghanistan o di territorio successivo più a sud era l'accesso al mare dell'intero oriente e poi era un crocevia di commerci importantissimo tra oriente occidente ecco quell'importanza strategica così forte che l'afghanistan ha sempre avuto comunque che quel territorio che oggi si chiama afghanistan ha sempre avuto è stata notevolmente ampliata e amplificata dal dalla in seguito alla seconda rivoluzione industriale quando si è capita l'importanza enorme del petrolio a quel punto così come le due guerre mondiali non possono essere comprese senza essere interpretate veramente come soprattutto guerre petrolifere così nello stesso momento anche questo evento così tanto diciamo riempito di ideologia e di crociata cristiana e antimusulmana in realtà è un evento da inquadrare in questo aspetto dell'importanza strategicissima di questo territorio dal punto di vista del petrolio e del gas quindi erano interessati tutti in questa accordata tutto quello che era il mondo occidentale e chiaramente c'era un problema il problema era quello sin dalla metà degli anni 90 cioè quando i talebani erano arrivati al potere ed erano finalmente riusciti a esercitare un controllo sull'intero territorio afghano grazie agli americani grazie ai finanziamenti agli armamenti all'appoggio al sostegno statunitense che dalla dal 1978 anche se ufficialmente si dice che sia accaduto dal 79 e cioè da quando l'unione sovietica ha invaso il territorio afghano ha invaso l'afghanistan nel pieno della fase cosiddetta della distensione della guerra fredda ecco anche se i libri di storia dicono al 79 già dal luglio 78 giugno luglio 78 gli americani avevano cominciato a esercitare pressioni e soprattutto come spiego in un in un video che sta per uscire sulla mia piattaforma in abbonamento bosco cedo pro allevando addestrando formando i futuri talebani alla jihad e alla crociata e alla guerra santa contro i russi contro ufficialmente a quell'epoca all'ateismo russo appoggiando quindi in pieno invece diciamo l'integralismo religioso come via per poter far fuori i russi ecco quindi già dalla metà del 78 che cosa era successo che gli americani avevano formato questa classe questa questa setta e finanziato questa setta di studenti integralisti che chiamiamo talebani a metà degli anni 90 erano riusciti a portarli a a gestire il controllo perché perché avevano bisogno di un referente unico con cui fare accordi per questo benedetto aspetto delle risorse energetiche e quindi dalla metà degli anni 90 cominciano degli accordi che sembrano anche andare molto lisci molto molto facili molto così immediati e diretti per arrivare alla creazione di questo oleodotto di questo gasdotto ma poi cosa succede succede che ci si mette di mezzo bin laden non succede che bin laden comincia a dichiarare la famosa guerra gli stati uniti succede che il mullah omar al vertice del del potere talebano lo appoggi addirittura poi lo ospiti addirittura nel suo territorio e il risultato è che gli stati uniti nonostante a livello privato ed ecco di nuovo che si ritorna al lobbying uno cal e la vari e le varie società incordata continuino a fare affari con i talebani li invitino in california li coccolino in tutti i modi quindi nonostante ufficiosamente di nascosto questi rapporti continuino ancora lungo a livello ufficiale gli stati uniti non possono che prendere le distanze dai talebani fino appunto al famoso al famoso ordine esecutivo di clinton del 99 che vieta qualsiasi relazione di qualsiasi tipo tra americani e talebani quindi si gioca come al solito la partita su due fronti un fronte nascosto in mano ai privati che continua a cercare di mantenere il contatto e il rapporto per arrivare comunque alla realizzazione di questo progetto miliardario e un fronte invece pubblico che ufficialmente denuncia la cattiveria dei talebani il loro integralismo il loro maltrattamento delle donne via di seguito notare che molti molte informazioni che noi sappiamo e che ho utilizzato in questo libro arrivano proprio dal movimento femminista afgano che durante la fase in cui gli americani ufficialmente dichiarano il loro disappunto la loro contrarietà nei confronti dei talebani invece pubblicano articoli in cui dicono attenzione perché una cosa è quello che dicono ufficialmente una cosa è quello che stanno facendo stanno continuando a mantenere il contatto stanno continuando a fare accordi milionari stanno quindi facendo in modo che i talebani continuino a esserci e a permettere loro la realizzazione di questo progetto quindi insomma come al solito questa 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 mescolanza di pubblico e privato che guarda caso vede gli stessi bush o i vari segretari di stato di bush senior e di bush junior come nello stesso momento rappresentanti di unocal e quindi all'interno della a titolo privato come coloro che dovevano come coloro che dovevano per conto di una multinazionale privata come unocal con mantenere i rapporti con i talebani e costruire l'accordo quindi siamo in una situazione folle che poi sfocia in questa in questa in questo avvenimento pubblico travestito da tragedia immane che cambia una volta per tutta la storia e che porta alla guerra santa e che porta poi a tutta una serie di eventi che ci sono succeduti nel tempo perché c'è sempre stato un motivo per muovere guerra o per rimanere diciamo sul chi va là quindi mi viene da pensare al tentatore bataclan all'aeroporto di parigi il nizza che è qui vicino a noi dove siamo a sanremo sempre terroristi poi a un certo punto arriviamo fino ad oggi tutto finisce gli americani abbandonano l'afghanistan sembra che dall'oggi al domani il terrorismo non esista più non ci sia più nessun motivo per rimanere cos'è successo sempre in è sempre un discorso politico economico hanno abbandonato l'afghanistan per non abbandonarlo allora intanto prendo al volo l'occasione per ricordare che l'attentato al bataclan è l'attentato al suo proprietario il quale è un grande manager e banchiere della dell'equip dei rothschild della famiglia rothschild non non il suo nome non come cognome ma è associato a loro e quindi è anche un noto finanziatore delle forze israeliane che agiscono in maniera più violenta nei confronti dei palestinesi e dei territori occupati e la striscia di gaza eccetera quindi stiamo parlando di un attentato che ha tutto il sapore della vendetta nei confronti dei rothschild di un avvertimento nei confronti anche perché queste forze sono guidate erano guidate all'epoca da un generale che guarda caso faceva parte della famiglia rothschild aveva proprio quel cognome io di questo parlo sia nel nei miei libri a cominciare dalla storia dei vincitori sui miti ma c'è un articolo in rete mio che si può trovare su questo punto quindi senz'altro questa questa questione che cosa ha portato intanto il grande vantaggio tra virgolette per il potere a livello globale a livello locale di avere la scusa per controllare tutto e tutti cioè visto che siamo in una fase terribile delicatissima di terrorismo islamico e i terroristi potrebbero annidarsi ovunque ecco che controlli a tappeto nei negli aeroporti in tutte le in tutte le zone i metal detector eccetera e la violazione della privacy sistematica comincia lì a partire da queste motivazioni come sapete e come sappiamo questa scusa poi diventa all'ordine del giorno tanto più oggi con la questione della pandemia cioè la privacy non esiste più sempre per questi ottimi motivi che sono presentati come un'emergenza e poi e poi perché perché oggi invece tutto sembra tranquillo come mai gli stati uniti si allontanano da quel posto dopo vent'anni di guerra intanto questo libro lo spiega chiaramente i talebani non sono mai stati sconfitti sono stati allontanati da kabul si sono ritirati nelle zone in zone periferiche si sono nascosti ma è la solita questione della guerriglia che alla fine privilegia chi conosce il territorio quindi è un secondo vietnam questo non c'è niente non c'è niente da fare ricordiamo è una cosa che pochissimi sanno che gli americani a luglio 78 cominciano pressioni nei confronti dei mujahidin e incluso bin laden a impressioni anti sovietiche proprio perché vogliono quello che poi puntualmente si verifica e cioè che a fine 79 i sovietici invadano l'afghanistan jesinski che è uno dei grandi politologi consiglieri dei presidenti americani durante la guerra fredda nonché uno degli ideatori e fondatori della trilateral spiegherà chiaramente che questo tipo di tattica gli americani e lui stesso è perché uno di quelli che hanno ideato questa tattica in afghanistan se la sono inventata proprio per attirare l'unione sovietica e in un nuovo vietnam quindi in un vietnam sovietico quindi loro sapevano benissimo gli stati uniti dove si sarebbero infilati in che casino si sarebbero infilati ma quello che contava veramente era arrivare all'oleodotto non esportare la democrazia o vincere la guerra quello che contava era stabilire le i punti chiave di passaggio di questo di questo oleodotto e di questo gasdotto poi cosa succede succede che una volta ottenuto cosa cosa accade intanto il libro spiega bene come poi questo progetto alla fine crolli ufficialmente perché perché ormai è guerra perché ormai quello che che voleva essere un controllo del territorio sfugge completamente gli americani non ce la fanno e però poi secondo me quello a cui stiamo assistendo in questi mesi tra l'altro non per tirarmela ma io chiudo il libro il 5 di agosto dicendo i talebani non sono stati sconfitti anzi puntano verso la capitale stanno recuperando territorio e puntano verso la capitale nei giorni successivi cominciano le notizie dei telegiornali che dicono che i talebani stanno recuperando terreno e stanno riprendendo in mano il territorio esattamente quello che è successo con lobbying che quando l'ho finito si è cominciato a parlare di lobbying a partire dal fatto quotidiano come se prima nessuno sapesse neanche che cosa fosse e soprattutto con l'industria della vaccinazione che io chiudo il 25 di febbraio del 2020 e il giorno dopo o comunque proprio in quei giorni parte il caso zero non so come si chiamava in italia della del covid e io chiudendo quel libro dico spiego quella che secondo me è la tattica che verrà adottata cioè la strategia secondo cui dopo un patto italo cinese come quello verificatosi gli americani in qualche maniera potrebbero aver fatto in modo che questo virus contagiasse partisse dalla cina e contagiasse anche l'italia e guarda caso succede questo solo che poi sfugge di mano a tutti la situazione insomma ho questo fatto di prevenire gli eventi tanto che mia moglie ultimamente mi ha detto per favore non scrivere più libri cioè porti una sfiga tremenda però detto questo cosa cosa io quando chiudo questo libro e avverto che i talebani riprenderanno in mano la situazione lo stanno già facendo beh secondo me do abbastanza l'idea di qual è il quadro il quadro in questo momento secondo me è questo l'ho già detto almeno un mese fa l'ho detto proprio alla più di un mese fa alla alla beh poco prima dell'uscita del libro nelle prime interviste e cioè io ho detto ci sono due possibilità di questo ritiro degli americani e della finalità che abbia o questa cosa serve per come lì per lì è sembrato per mettere in rilievo e denunciare in un modo globale la cattiveria di questi talebani che tornano ricominciano a massacrare tutti e la gente che scappa e le donne di nuovo in pericolo come se invece finora fossero state benissimo ma lasciamo perdere quindi una situazione terrificante e allora gli americani cosa fanno che hanno fatto quelli che hanno fatto il nobile atto di uscirsene ritornano in pompa magna con effetti speciali questa volta sotto legida dell'onu con i caschi blu con la legittimazione globale perché fino a questo momento in questi vent'anni di critiche nei confronti di questa guerra ce ne erano state tantissime a partire dal premio nobel dato a barack obama dopo undici anni di guerra continuativa molte critiche sulla legittimità di una guerra ufficialmente nata da un attentato che invece per gli americani andava interpretato come attacco militare agli stati uniti per avere la possibilità di poter a loro volta reagire militarmente insomma di critiche ce ne erano state tante ma nel momento in cui tanto più in un'epoca emotiva come la nostra tutti rimangono sconvolti dall'estrema cattiveria dei talebani che tornano e si mettono di nuovo a picchiare le donne ecco che allora tutto il mondo acclama gli stati uniti che tornano di nuovo in afghanistan e questa volta l'oleodotto lo fanno in modo definitivo ricordo che quando crolla il progetto dell'oleodotto nasce un progetto nella seconda metà degli anni 2000 diciamo così nasce un secondo progetto che invece in mano agli stati allo stato del turmenistan dell'afghanistan del del pakistan con delle compagnie statalizzate tagliando fuori gli americani e quindi questo da allo scaccomato gli stati uniti che avevano fatto tutto sto casino compreso la guerra per arrivare in afghanistan e metterci il loro leodotto quindi ecco che adesso questa potrebbe essere la contromossa nel momento in cui c'è di nuovo bisogno di loro tornano lì il progetto statalizzato non è ancora stato messo in atto proprio per la loro capacità di bloccarlo tornano e fanno quello che vogliono loro la seconda ipotesi secondo me è quella invece che avevo subito considerato come a mio parere la più probabile e cioè non che i talebani ritornino a essere così cattivi da essere attaccati ma molto più probabilmente come secondo me si sta verificando i talebani diventano buoni cioè tornano su ma si mettono a osservare meglio i diritti delle donne a rispettare a garantire una certa quota di giustizia a esercitare un buon governo come si può dire nei limiti del possibile in buoni rapporti con gli stati uniti cioè esattamente quello che era stato richiesto in quella riunione di metà luglio del 2001 un governo moderato filo americano che permettesse il passaggio dell'oleodotto e a questo punto gli americani avrebbero finalmente dopo decenni l'interlocutore unico ideale legittimato dal mondo commosso dalla dalla retromarcia dei 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 talebani finalmente diventati buoni no e quindi in qualche modo redenti avrebbe finalmente l'occasione per lasciare i talebani dove sono ricattati nel senso che a quel punto farebbero assolutamente quindi sta quello che gli stati uniti desiderano e far partire questo maledetto oleodotto che da decenni gli americani cercano di mettere in piedi guardi professore volevo proprio farle questa domanda lei praticamente ha risposto abbiamo i talebani che in quella famosa riunione di berlino sono a quanto ci pare di aver capito degli interlocutori sotterranei ai quali viene detto praticamente o vi ricopriremo d'oro o vi ricopriremo di bombe e adesso sembra che stiano cercando proprio una legittimazione da quei paesi democratici che li ha visti dal loro modo insomma vittime perché ovviamente un talebano pensa di essere la vittima dell'occidente noi abbiamo visto nel recente passato che tutte le dittature in medio oriente che sono state diciamo attaccate e combattute comunque garantivano una certa stabilità lo abbiamo visto anche vicino a noi in libia quando c'era gheddafi comunque era un territorio sotto dittatura magari le persone non vivevano con un tenore di vita che noi potremmo considerare occidentale però insomma c'era una stabilizzazione dell'area ogni qualvolta viene attaccato ovviamente sempre per motivi economici perché anche gheddafi è stato spazzato via principalmente dalla francia che poi ha acquisito tutti i diritti per la ricostruzione per la gestione energetica quindi i talebani riusciranno mi pare di capire il suo punto di vista a sedersi non dico al tavolo delle nazioni unite ma comunque a essere interlocutori ufficiali dell'occidente delle democrazie esattamente questo che quello che penso cioè nel senso che a questo punto insomma questi vent'anni di guerra gli stati uniti non servivano per vincere lo sapevano già dal 78 avendo attirato in questa guerra l'unione sovietica parlo della guerra appunto di di invasione degli dell'afghanistan e poi di tutto quello che era stata la reazione appunto dei mujahideen di al qaeda nei confronti di queste di questa situazione quindi il futuro al qaeda nei confronti appunto dei sovietici quindi gli americani sapevano benissimo che lì non avrebbero potuto vincere ma quello che a loro interessava era dimostrare ai talebani che finché fossero stati lì gli americani non avrebbero permesso ai talebani stessi di tornare al potere quindi i talebani avrebbero dovuto mantenersi dentro le grotte e vivere così a questo punto tutti contenti nel momento in cui gli americani se ne vanno lasciando tranquillamente che i talebani riprendano in mano la situazione consapevoli però del del rischio che corrono nel caso in cui continuino a perpetrare i loro così le loro le loro ingiustizie a livello sociale eccetera eccetera soprattutto consapevoli del fatto che convenga assolutamente che si mettano d'accordo con gli americani per i loro interessi commerciali ecco che a quel punto siamo tutti d'accordo perché l'occidente plaude a un afghanistan diciamo moderato che è tornato sui suoi passi che ha capito che cosa voglia dire la giustizia e menate varie gli americani ottengono quello che ottengono finalmente facendo passare il l'oliodotto e gasdotto e quindi cominciando a far profitti alla grande e i talebani stessi si tengono su il loro territorio dopo aver faticato così tanto per difenderlo e tutti a casa tutti tranquilli io credo che questo sia l'esito a livello geopolitico che cioè sempre quello della come lei diceva della stabilizzazione e che però dobbiamo capirlo per gli americani e se vogliamo purtroppo a livello mondiale per il mondo stabilizzazione significa sempre raggiungimento di una posizione comoda per gli americani utile agli americani quindi il mondo si stabilizza quando va come gli americani vogliono che vada e quindi in questo modo la stabilizzazione intesa in questo senso viene definitivamente raggiunta e non ci sono più problemi però non le pare anche a lei come è parso a me professore che non mi sembra che non si sia nel senso gli americani sembra sembrava un fuggi fuggi generale quello dell'esercito americano hanno lasciato sul terreno tra l'altro ingentissimi mezzi cioè un valore cospicuo in termini di armi e di mezzi militari sembra una ritirata non ragionata sembra un affonda la nave scappiamo tutti più che un ragionamento che ci si aspetterebbe forse da dall'intelligenza americana beh nell'ottica di un rientra di un rientro poi con gli effetti speciali sotto legge dell'onu quelle quelle attrezzature verrebbero riprese e riconquistate diciamo che comunque che cosa sia veramente successo non lo sappiamo e quindi come al solito noi ci basiamo sui dati che ci vengono raccontati può essere stata anche una decisione immediata perché questo poteva essere il momento opportuno per il momento più potere cominciassero a discutere con gli americani sono sono valutazioni che vengono effettuate io non lascerei nulla al caso e non credo che sia stata una cosa non ragionata e quindi non scelta in maniera in maniera deliberata ecco io la penso così comunque poi si sente si sono sentite cose allucinanti tipo che gli afghani per entrare in italia dovevano avere il green pass e questo è assolutamente ridicolo cioè nel senso che io me li vedo questi green pass per entrare in italia no quindi poi queste cose si vanno a fondere con altre emergenze eccetera in un disegno superiore che noi non sempre siamo in grado di comprendere se non poi magari a distanza di anni insomma professore siamo in conclusione però vorrei fare una sua opinione e su una domanda mia personale ne abbiamo parlato anche anche oggi il forum di davos claus schwab come influisce nel mondo come influiva ieri oggi sembra un po una riunione filantropica come ci fanno vedere su internet con i video sull'inclusione sul green invece che cos'è che rapporti di forza ci sono con con questo asse americano sembra che america cina e il forum di davos siano a volte cose diverse a volte confluiscano in quello che sta succedendo anche oggi io so poco di questo perché mi sono interessato poco di questo aspetto cioè ne ho parlato nel libro in funzione in relazione a quello che era il clima che si viveva in quel momento ritengo però che al di là degli interessi filantropici si parli di un forum che come sappiamo coinvolge i massimi interessi dei paesi capitalisti più più forti e quindi che sia come al solito un meeting una riunione interessata a quello che è un'associazione diciamo così finalizzata quella che è il potenziamento del capitalismo e degli interessi dei paesi più forti da un punto di vista economico non non sono così a pelle non sono così convinto di questa storia del grande reset per esempio nel senso che mi convince poco nel senso che anche se schwab tira fuori le sue teorie non è che se che se lui dice queste sciocchezze questo significa che queste cose accadranno effettivamente o quantomeno che noi permetteremo a questa gente di attuarle non sono così sicuro che ci sia un disegno l'ho sempre detto di qualcuno in grado di manipolare l'intera situazione mondiale anche se magari a qualcuno piacerebbe credo che spesso sia più siano più capaci queste persone a cavalcare o a come dire strumentalizzare o comunque utilizzare i cambiamenti a loro per i loro interessi la storia della famiglia Rothschild lo dimostra hanno dimostrato sempre un fiuto pazzesco nei confronti degli affari dei cambiamenti che si verificavano a livello tecnologico a livello politico a livello militare via di seguito quindi queste persone sono secondo me più che capaci di cambiare gli eventi o di dirigerli di cavalcarli e quindi di trovare poi l'aspetto più utile per poter fare i loro stessi interessi io credo che si tratti soprattutto di una questione di questo tipo professore la ringraziamo siamo in chiusura come sempre vi invitiamo a iscrivervi al canale se non lo avete fatto mettete un mi piace cliccate sulla campanellina subito fatelo subito e vi invitiamo anche sul portale del professore bosco c2.prog per chi vuole cercare approfondire dove trovare i suoi libri altre indicazioni ci può dire i suoi social o altri canali dove andare da cercare dunque il sito in realtà si chiama bosco c2.it e quindi il titolo l'indirizzo è questo bosco c2.it e questo è il mio sito in cui inserisco articoli eccetera video e cose varie c'è una sezione a cui si accede cliccando in alto dove c'è scritto bosco c2 pro e cliccando lì si entra nella sezione in abbonamento tra l'altro in quella sezione oltre a video e contenuti di approfondimento e aggiornamento delle tematiche che approfondisco nei miei che tratto nei miei libri c'è anche una sezione di video homeschooling che sto mettendo in piedi e c'è un lavoro enorme e ogni giorno mi pento di essere partito perché veramente una follia ci lavoro anche di notte ci sono sempre più insegnanti che tanto più in questo momento di crisi si si sono uniti e danno lezioni delle loro materie per diversi cicli scolastici dalle elementari fino alle superiori ne abbiamo già parecchie si possono trovare nella sezione video homeschooling c'è c'è proprio la l'elenco delle materie già attivate quelle in vie di attivazione il tutto con dei corsi annuali pensate che costano 25 euro in tutto cioè nel senso che l'idea è quella di fare in modo che le famiglie che si trovano costrette a ritirare i loro figli non abbiano una spesa eccessiva ma anzi abbiano una spesa veramente bassa da sostenere per poter permettersi di prepararli di farli preparare da qualcuno che lo sa fare anche se purtroppo a distanza perché non abbiamo altro modo con queste video lezioni e poi di dare l'esame integrativo a maggio di ogni anno per poter accedere alla classe superiore in maniera ufficiale alla classe successiva e quindi diciamo che al costo di una o due lezioni private abbiamo diamo un intero anno un'intera annualità di lezioni di moltissime materie o comunque di molte materie e poi nei social come diceva lei sui social sono c'è la pagina Bosco Ceduo la pagina di Pietro Rato Bosco Ceduo su Facebook su Twitter l'ho cancellato perché mi sono rotto le scatole del boicottaggio sono arrivato a constatare nel giro di due notti la cancellazione di centinaia di tre quattrocento iscritti in due notti da parte di Twitter che continuano a cancellarmi quindi a un certo punto ho detto io a questo tipo di umiliazione non sto e l'ho chiuso nonostante fosse un canale molto affollato e rimane quello di su YouTube anche lì si chiama Bosco Ceduo il canale di Pietro Rato ed è un canale che faticosamente sta arrivando a quota 22 mila iscritti ma anche lì perché i miei iscritti continuano a scrivermelo a ripetermelo vengono costantemente cancellati quindi ci sono persone che ogni giorno si collegano e si riscrivono al mio canale e la mattina dopo scoprono di essere stati cancellati quindi in effetti io non so che passaggio ci sia lì dentro perché se dobbiamo calcolare tutti quelli che credono di essersi iscritti e che poi non hanno più verificato ma in realtà non lo sono più grazie alla censura di YouTube non so quando quanti in effetti siano ma questa è purtroppo la situazione che sto vivendo e vabbè finché questo genere di comunicazione sarà comunque gestita da privati come accade nei social purtroppo non avremo la possibilità mai di avere voce in capitolo appunto finché le politiche non e non succederà mai non decideranno di regolamentare questo tipo di situazione professore noi noi non siamo d'accordo con sua moglie lei deve continuare a scrivere perché la aspettiamo sempre sul nostro canale per per presentare i suoi lavori con noi è sempre un piacere averla dall'altra parte del del cavo e la salutiamo e la ringraziamo per la sua disponibilità grazie a tutti grazie a voi e buon proseguimento grazie alla prossima Luca Terzani e Marco Terrone presentano la pecora nera quello che gli altri non dicono